... Beh ragazzi qua vudi, oggi sono qua sul canale dei WeGamers HD ... ... Beh ragazzi qua i WeGamers HD Porca miseria a tutti ragazzi, i WeGamers HD Beh ragazzi qua i WeGamers HD Ben ritornati oggi con una nuova challenge ... ... ... Sì, vabbè, vabbè Grazie E' un po' di video Oggi, non ho avuto per MacCosper E' un po' di video E' un po' di video Entra! Ce l'abbiamo fatto, ragazzi Ce l'abbiamo fatto C'è quanto? Non vorrei dirti Cosa? 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 Chia Cosa? 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 è una azienda sono avuto è una azienda è una azienda ah è top 5 no no sono gay Niente, noi torniamo a giocare a FIFA Bye